Grusseto e Crotone, da una parte per conservare l'imbattibilità e dall'altra per ottenere un'importante affermazione in vista dei prossimi impegni che diranno quali sono le reali potenzialità dell'undici pitagorico, magari ottenendo l'unico risultato in ordine cronologico che manca al team crotonese, ovvero sia la vittoria in trasferta. Il Crotone forte della vittoria sull'Empoli in vista di questa delicatissima trasferta sta preparando al meglio la gara con la consapevolezza dei propri mezzi e con l'umiltà di chi sa che di fronte c'è una compagine di tutto rispetto reduce dal pareggio di Marassi contro i blu cerchiati a detta di tutti una squadra a mazza campionato. In poche parole non sarà per niente una passeggiata. Depone a favore dei crotonesi la voglia di emergere ulteriormente dopo un avvio non certo positivo. Sicuramente sulla carta e nelle varie ricevitorie i favoriti sono i toscani, ma il nuovo assetto tattico e la mezza rivoluzione che ha sorpreso un po' tutti, perpetrata da mister Minichini in occasione della gara di sabato scorso, lascia ben sferare e lascia presagire qualcosa di buono all'orizzonte. Senza tralasciare nulla al caso, ci piace ricordare alcune situazioni simili nel passato che dopo una bella fermazione in trasferta ci hanno messo nelle condizioni di dire la nostra e anche in diverse circostanze di dettar legge. Quindi squali, anche in vista del prossimo duplice impegno casalingo, cercate di ottenere il massimo sabato in quel di Grosseto, anche perché se così dovesse essere siamo più che convinti che sarà sempre bello continuare a sognare. Anche con il Presidente Gualtieri si è discusso delle condizioni del terreno dell'Eteo Scida, in questo momento poco idoneo ad ospitare incontri di calcio. Al Presidente abbiamo chiesto anche di farci conoscere il suo pensiero dopo le dichiarazioni del Presidente di Lega a Bete, che ha pubblicamente preso in esame la questione. Da consigliere di Lega, anche se è squalificato, puoi darmi sicuramente la tua risposta. Il Presidente di Lega ne ha detto veramente tantissimi sul nostro terreno di gioco. Cosa possiamo rispondere? Ma guarda, in realtà non è che il Presidente di Lega abbia detto tantissimo. Esiste logicamente una procedura. Succede che quando c'è una partita ci sono alcuni, diciamo una serie di organismi che sono logicamente direttamente interessati alla partita, il primo di tutti Sky, per esigenze televisive, che può e deve fare delle lamentele. Qui è successo niente di particolare, è successo quello che succede ogni anno. Noi, prima della prima settimana di novembre, non abbiamo mai lo stadio per la questione climatica, per il fondo del terreno che ormai è fatto in un certo modo, e noi abbiamo questo problema. Le capiscono queste ragioni? Sì, ma quest'anno non è successo niente di particolare rispetto agli altri anni. È successo che Sky, nella partita con Livorno e anche nell'ultima, giustamente ha fatto lamentele dicendo che per esigenze televisive il terreno di gioco è un po' così. Stessa lamentele l'hanno fatta la terna arbitrale, perché anche la terna arbitrale può dire la sua. Queste lamentele arrivano in Lega B e a Bodi, come presidente, deve per forza mandare un fax, e questo ha fatto a Bodi niente di più, mandare un fax alla società e ci ha mandato un fax al Crotone Calcio dicendo guardate che abbiamo ricevuto queste lamentele e dovete sistemare il terreno di gioco. Noi abbiamo risposto e abbiamo detto, come ogni anno, che verosimilmente intorno al 15-20 ottobre avremo lo stadio a posto. Questo è successo. È chiaro che se in una trasmissione televisiva, in diretta, come può essere nel novantissimo minuto, gli viene chiesto a Bodi, ma il presidente è lo stadio? E lui deve dire per forza, sì, lo stadio del Crotone. Però, ripeto, niente di più di quello che succede ogni anno. Noi avremo lo stadio a posto fra tre settimane, quattro settimane al massimo. E questa storia finirà. Speriamo di avere tanti più punti in classifica.